Una festa lunga 10 ore, dal caldo di mezzogiorno al fresco del ballo notturno. Il CUS Bari festeggia all'inizio dell'estate con una giornata tutta all'insegna dello sport. Sotto le stelle del CUS alla prima edizione è l'occasione anche per ricordare i grandi campioni appartenuti al circolo come Paolo Pinto e Ignazio Loiacono con gare di nuoto master e una singolare staffetta podistica 10x2 km alla quale hanno partecipato anche il sindaco di Bari Michele Emiliano e l'assessore allo sport Elio Sannicandro con grande soddisfazione da parte degli organizzatori. È una giornata particolarmente emotiva per tutti noi perché ricordiamo sia Paolo Pinto che la figura di Ignazio Loiacono e questo è il primo memorial lui dedicato e presentiamo alla cittadinanza, alla comunità del CUS la sua statua che vigilerà nel futuro su tutti gli atleti del CUS Bari. Tanti atleti, è bellissimo per me vedere nuotare questi ragazzi perché ovviamente ricorda tutto quello che Paolo ha fatto nella sua vita, si era dedicato al mare, alla piscina e quindi per noi è un vero piacere oggi stare qui e vederli. E poi in serata spazio alla musica fino a tardanotte sotto le stelle di uno dei luoghi più belli per natura e cultura del capoluogo pugliese.